qualcuno è venuto? come qualcuno? sono state mezz'ora che sto a fare le foto ma io non ho visto nessuno, non ho visto nessuno ma buongiorno! ma io sono più di mezz'ora che sto a fare le foto ma perché? tu chi sei? io sono il miglior nonno d'Italia eeeh! l'ho detto loro, io non dico niente l'ho detto loro! lo aspettiamo qua! papà! salute! al sudoku come sei messo? eh? come? alla salute! torneo? del sudoku! auguri! mamma mia che corno che hai messo! eh? guarda, Jacks! ferma, ferma, è capato il cintone! il santo della santa romana iglesias alla sante di don si vuole! eeeh! auguri! 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 basta! dioscaz! nooo! benedizione! clamoroso al cibali benedicus uobis impotentis deus peccatoribus bestemmiorum cincellorum ma dove scappo gli occhi! attenzione! clamoroso! si sta tuffando, ecco, ecco, ecco! eccolo, eccolo, eccolo! si sta tuffando, eccolo! eccolo, sta tuffando! smettere di fare il coccodrillo! eccolo come mangia subito il coccodrillo! si comodo mannico io! eh? come la mangia? si comodo mannico? mamma mia come si sta... Abbuffando eh Mamma come si abbuffa Tu sei un abbuffino Tu sei mangione O no? Stai mangiando? Me l'ho tagliato No! Si è tagliato il pelo No! Anche di là Anche di là Vai vai fa la benedizione Filiberto Rinfresca rinfresca vai Un applauso a Filiberto il prete Di là anche di là Questi vuoi una benedizione vera eh Vai vai per bene per bene Lui non diceva mai basta Oh ma te la regoliamo, amico In me devi garlo Va bene? Se no g bug Su me, me l'ho preso Che cazzo vuole? Che maleducazione Che educazione malata